Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video, ti parlerò del nuovo limite di impignorabilità sulle pensioni introdotto dalla legge 142 del 2022. L'Inps, con la circolare numero 38 del 3 aprile 2023, chiarisce che la nuova disciplina sul pignoramento ha efficacia dallo scorso 22 settembre, data di entrata in vigore della legge 1422022, sui procedimenti esecutivi pendenti per i quali non sia ancora stata notificata all'Inps l'ordinanza di assegnazione. Tutte le somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000 euro. Si segnala che l'importo dell'assegno sociale per il 2022 ammontava a 469,03 euro mensili, mentre per il 2023 l'importo è aumentato ad 503,27 euro euro mensili. Se ti è piaciuto il video e lo hai trovato interessante, clicca Mi piace e iscriviti al canale. Grazie per l'attenzione.